E' un'altra parte della nostra segna sportiva, ancora parliamo di Juventus Inter, torniamo immediatamente online per vedere in effetti quelle che sono state alcune delle dichiarazioni dei tecnici e comunque dei protagonisti di questa gara nel caldo post partita. Su questo tema, ad esempio, ci torna Allegri, racconta come sembrava una finale di Champions League, il tecnico dei bianconeri esalta il gioco dei suoi, ma anche dell'Inter e poi scherza sull'uscita polemica dal campo di Dilic Steiner e dice ogni domenica ce n'è uno, la scorsa settimana era di bala, oggi lui, mercoledì ce ne sarà un altro e poi assicura, a proposito di Champions, la Champions League non è un'ossessione per noi, certamente il derby d'Italia lascia nel finale un Max Allegri raggiante perché i bianconeri tornano a più 6 sul Napoli, momentaneamente a più 7 sulla Roma e comunque anche in caso di vittoria della Roma, dovendo giocare ancora contro il Crotone e vincendo probabilmente i bianconeri potrebbero trovarsi inevitabilmente in ogni caso a più 7. Ecco perché Allegri dice sono molto contento, è stata una partita di altissimo livello, a livelli di una semifinale di Champions e quindi bisogna fare i complimenti anche all'Inter, indipendentemente dal risultato, aveva chiesto ai ragazzi di fare una grande prestazione, l'ha ottenuta e dice sono felice, tutto il contrario di Dilic Steiner che esce arrabbiato al momento della sostituzione e Allegri dice ogni domenica ce n'è uno, la scorsa a volte è toccato a Dybala, oggi a lui mercoledì ce ne sarà un altro, comunque l'importante è che continuino a giocare così, in ogni caso ho interpretato male io l'espressione di Dilic Steiner, era caduto ma ho pensato che avesse chiesto il cambio, un leitmotiv questo che succede in tutti i campi con diversi giocatori che non vogliono mai essere sostituiti, Hernanes è un giocatore che invece più volte è finito ai margini della Juventus ed ecco perché questa trattativa con Lebei, club della Cina potrebbe essere un affare per la Juventus perché sono in arrivo 11 milioni, attesa in giornata per le firme per il passaggio del centrocampista a Lebei, ai bianconeri andranno 9 milioni più 2 di bonus e poi potrebbe essere anche molto alto l'ingaggio per lo stesso Hernanes, in brasiliano potrebbe, dovrebbe firmare un contratto pluriennale da 6 barra 7 milioni a stagione mentre oggi alla Juventus ne prende 3, che sono comunque tantissimi, considerato comunque anche il poco utilizzo da parte di Max Allegri del centrocampista e quartista in brasiliano, certamente in Cina raddoppierebbe l'ingaggio e quindi andrebbe a migliorare la propria situazione economica. La situazione in casa Inter invece è tesa, l'Inter è nervosissima per le decisioni arbitrali di Rizzoli, rabbia Pioli dice negati due rigori netti, gli episodi fanno la differenza, Chiellini e Manzucchi c'è sui cardi con l'addizionale a pochi passi, mi sono arrabbiato prima del gol di quadrato perché abbiamo lasciato scoperta la zona importante da coprire, ma mi sono arrabbiato anche molto per gli episodi che ci hanno penalizzato e questo mi dispiace, in queste gare e episodi fanno la differenza, nel primo tempo c'erano due rigori per noi, Chiellini e Manzucchi c'è sui cardi con l'addizionale a pochi passi, noi gli episodi li abbiamo creati ma poi le decisioni prese non ci hanno favorito, inevitabilmente è questa la presa di posizione di tutti gli interisti come abbiamo visto anche nella home page della Gazzetta, anche il titolo legato a Massimo Moratti, l'Inter poi aspetta anche di capire cosa ci sarà nel referto, nel frattempo però la Juventus si allontana in classifica, inseguita da Napoli e dalla Roma che deve giocare contro la Fiorentina, una Roma che guarda anche in prospettiva, per poter raggiungere la Juventus e la sua cifra record di 28 vittorie allo Juventus Stadium, un impianto di propria appartenenza e quindi di proprietà la Roma vuole accelerare per averne uno proprio, ecco perché anche ieri Luciano Spalletti ha fatto irruzione in diretta durante il collegamento di Sky Sport dall'Olimpico, ha detto famoso stadio e anche Totti si aggrega, vogliamo il nostro Colosseo, la narratore irrompe nel collegamento per lanciare il suo appello sul nuovo stadio, diventa una sorta di trend topic, l'hashtag famoso stadio inizia a divampare nel pomeriggio quando i principali dirigenti, i più alti dirigenti della Roma da Baldissoni, Gandini fino a tutti i dipendenti di Roma TV, Roma Radio e poi via via diversi giornalisti e ovviamente i tifosi iniziano a pubblicare foto dello stadio della Roma, per meglio dire lo stadio virtuale, quello che ancora non c'è ma che vorrebbero costruire e che è stato ormai in rampa di lancio portato nella conferenza dei servizi dopo la concessione della pubblica utilità, in settimana c'era stata, dopo appunto questa pubblica utilità ottenuta dalla Giunta Marino, c'è stato il parere negativo da parte della Giunta Comunale di Virginia Raggi, però c'è stata anche una sorta di accelerata nelle ultime ore, anche tanti calciatori della Roma si sono legati a questo appello, da Francesco Totti che dice vogliamo il nostro Colosseo Moderno, una struttura all'avanguardia per i nostri tifosi e per tutti gli sportivi, anche Florenzi e famolo, dice in dialetto romano, ovvero facciamo questo stadio, tutti si allegano appunto a questa irruzione da parte di Spalletti che prende il microfono e invita gli amministratori ad accelerare su questo processo, nel frattempo ha parlato anche Daniele Frongia, l'ex vice sindaco di Roma Capitale, oggi assessore allo sport, dice è stato prodotto un parere tecnico degli uffici che però non significa una bocciatura, il mese in più che abbiamo chiesto, serve proprio, il mese in più che il Campidoglio ha chiesto alla conferenza dei servizi con scadenza il 3 marzo, dice Frongia serve proprio per valutare il progetto fino alla conclusione, non è assolutamente una bocciatura, dice intervistato da Radio Radio, se il Comune ha detto no allo stadio, no, possiamo tranquillizzare tutti i tifosi, dice Frongia che poi conferma una propria fede giallorossa e conferma anche i contatti tra Campidoglio e Club, dovrebbe esserci un vertice proprio martedì, ci sono tutti i margini per concludere positivamente la procedura nel rispetto della legge, c'è la volontà di farlo in primo luogo nell'interesse dei cittadini e quindi di tutte le parti coinvolte nel progetto, fanno trapelare dal Campidoglio proprio nelle ore in in cui, come abbiamo visto, tutti quelli che sono nell'ambito di Roma in sintonia fanno questo appello, un appello che unisce ancora una volta Francesco Totti e Luciano Spalletti dopo gli attriti della scorsa stagione, in questa stagione sembrano davvero molto molto uniti come si è anche evinto durante la settimana dal grande abbraccio tra i due dopo che il rigore di Francesco Totti al 95esimo aveva sbloccato una partita stregata per la Roma contro Cesena nei quarti di Coppa Italia con l'accesso della Roma alla semifinale dove incontrerà la Lazio. Francesco Totti che dopo aver raggiunto i 40 anni sembra aver trovato una sorta di pace dei sensi sportivi sportiva, anche quest'anno il poco, scarso minutaggio che il suo fisico e anche le scelte tecniche gli hanno concesso non ha comunque limitato l'apporto tecnico calcisticamente parlando. Adesso Totti si schiera anche per questa questione stadio, la Roma che vuole proprio attraverso lo stadio continuare la nostra crescita economica, nonostante questo handicap però la crescita c'è, come si registra dai diversi portali di informazione, si parla di una Roma quindicesima in Europa per i ricavi con 218 milioni di Euro, una Roma che è la seconda in Italia dopo la Juventus ed è appunto, abbiamo visto in quindicesima posizione, a guidare questa classifica è il Manchester United con 689, segue Barcellona con 620. Lunghezze mostruose, basta pensare che la Juventus è la prima della classe in Italia e ha oltre 300 milioni di meno dal Manchester ma ne ha oltre un centenario e mezzo in più rispetto alla Roma, distanze che fanno anche capire il perché ci siano anche queste distanze di punti in classifica. Una Roma che prova comunque ad inseguire e prossimamente lo farà anche con Mohamed Salah in rosa, è tornato, tornerà mercoledì dopo le fatiche di Coppa d'Africa, è uscito sconfitto, beffato nella finale dal Camerun che qui diventa campione da Africa, una botta per lui ma anche la fine di un lungo periodo di assenza per la Roma che conta molto su di lui per poter continuare la scalata verso il vertice. Noi con questa notizia abbiamo risalito il tempo a nostra disposizione quindi non mi resta che rimandarvi ai prossimi appuntamenti della nostra assegna sportiva. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.